Poi ne apri una, poi ne apri una, è proprio curioso. Attenzione! Scoppia? Non so, di molti miei non mi fido se... E' una mina anti... è una mina anti-cabro! Una mina anti-cabro! Perché se ne hai bisogno di fare alcune cose, ma poi... Una mina anti-cabro, ma poi dopo... Secondo me abbiamo sbagliato qualcosa... Il parco è fatto bene! Ah, ma mi ha detto che è stato fatto bene! Sul parco sei primiato, però! Ohhhh... Una roma, oggi... Come di cuore... Mostrali la camera! Che bello! E' un orologio d'amor! E' bellissimo! E' un orologio d'amor! Spero! Dove l'hai trovato? Ho visto come è che sta vendita a fare la cosa più importante! Guarda che è di Prada tu! E' di Praga, è di Praga! Gli eraci sono veri! Voi a voi che non l'appendete in casa comunque, perché noi andremo a controllare... Vieni a voi dietro! Voi davanti! Oh, profonda muore! Io giuro che l'appendo! Ma ci mancherebbe! Lo pensi veramente eh! Ma che vuoi? E' un mica eh! Quando parlare di Cristiano la prima volta! Questo qui guarda che ha il tuo? Si, mi assumo la responsabilità di questa... Non mi ricordavo nella lista un regalo... No guarda che ho affettato! Deve venire a prendere un macete! Si, la scatola è bellissima! La scatola è bella! Una torta! Una torta! Direi che è una torta! E' una torta... E' una torta... E' una torta... E non lo so! Ma guarda che c'è un... Ma torta che c'è un basically! Ma questa è la scatola... Ma c'è la mia bicchiere eh! Ma lo so eh... Ma perché scusa? Ma guarda che avuto? Non lo so tu avrò! E' rimane solo quello poi! Un matri instantly, un matri sangat! una sincera poi quanto capisco ma non... ooo oma... vedi lo riprendilo riprendilo ahah gara di guarda anche tu vedi la cosa vedi la cosa vedi la cosa uno piacere fai ai due la scuola la scuola e la scuola... per far todo la vita, todo l'amore non si è cascimato non mi ha capito il campo no veramente dei tordi due pezzi così non si possono trovare sono irriviabili sono ragazzare uno arriva da un coltano non lo so sono pezzi unici fuori serie fatti da un artigiano a mano fatti dai cinese sono due aeronario apporgati da Toriano basti amato da suore belghe cieche secondo me made in sila non hai paura di me wolflock questo è un'ora non puoi fare un'ora chi è questo? chi è questo? è la tua la casa il suo amore 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 il mio amore non vive io sono l'azienda io ho visto anche un altro un uomo il mio amore il mio amore è un po' di trauma ma che bello è io me lo faccio la casa perché sono pezzi numerati sono pezzi numerati mi sono riusciti che calutno che calutno mi sono riusciti del suo amore il suo amore il suo amore il mio amore